Il risultato parla chiaro, Cantu ha giocato meglio di noi, ha meritato più di noi di vincere. Non posso sicuramente dire che i miei ragazzi non ci hanno provato, ma oggi non è stato abbastanza. Non è stato abbastanza, Cantu è stata più lucida, più cinica. Nei momenti topici della partita ha fatto le scelte giuste che noi abbiamo arrancato. Nessun problema, prenderemo spunto per migliorare, per capire come e dove andare a migliorare già a partire da martedì mattina. La squadra è viva, i ragazzi hanno comunque provato a fare il massimo possibile. Questo è di buon auspicio per la prossima partita di sabato a Cremona.